La questione delle trivellazioni in Adriatico e nello Ionio continuano a suscitare roventi polemiche a tutti i livelli. Durissime le parole del Vescovo di Ugento e Santa Maria di Leuca, Monsignor Angiuli, che ha attaccato il Sud, non può diventare una pattumiera con tutti questi problemi. Non si ferma la protesta contro le ricerche petrolifere nel mare Adriatico. Martedì 18 agosto il coordinamento Notriv Terra di Bari si riunisce a Bari in piazza Ferrarese. Nell'assemblea, convocata alle 18, si affronterà l'organizzazione della mobilitazione del 18 settembre alla Fiera del Levante. Gli attimisti, infatti, esporranno le loro ragioni nell'ambito della conferenza tra regioni sul tema delle trivellazioni indetta dalla Puglia. Durante l'incontro di martedì saranno raccolte e proposte per ulteriori assemblee pubbliche da organizzarsi in altre città e definire una piattaforma politica per il 18 settembre. Giudizio negativo sulle ricerche del loro nero anche dal Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, Monsignor Vito Angiuli. Il Sud non può diventare una pattumiera con tutti questi problemi, ha dichiarato riferendosi alle problematiche ambientali. Parole riprese da tutti gli schieramenti politici in una mobilitazione trasversale e compatta contro la decisione del governo Renzi. Le parole di Monsignor Vito Angiuli, ha dichiarato Dario Stefano, senatore di Sella, non si prestano ad interpretazioni. Gli ha la condanna totale per una pratica di ricerca del petrolio nei nostri mari che andrebbe a deturpare bellezza e paesaggio, valori fondamentali per il turismo pugliese e su cui invece ostinatamente il governo nazionale continua in perterrito ad andare avanti. Un colpo allo stomaco per tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro mezzogiorno, ha definito l'intervento del Vescovo il consigliere regionale di oltre confitto Erio Congedo. Facciamo insieme, convintamente, senza bandiere, senza faziosità. Il centrosinistra pugliese, propone il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Damascelli, eserciti anche pressioni politiche sul governo e sul premier dello stesso partito di Emiliano, auspicando chi abbia peso politico a Roma. Giudizio drastico anche dalla Will e vergognoso che non si tenga conto che la Puglia già esporta il 90% dell'energia che produce e che ha in cantiere la TAP, il gasdotto che arriverà a Dothranto, l'elettrodotto a Polignano e Tempa Rossa a Taranto, che dovrebbero fare della regione un vero e proprio deposito petroliero, ha sottolineato il segretario regionale Aldo Pugliese. Ma tutto questo, aggiunto, evidentemente non conta nulla, così come non conta nulla il fatto che esista un piano regionale per la produzione di energia eolica e solare.